Sono partiti gli alimenti maschi, 6.000 in metri da percorrere, 30 i giri totali, la prima campana è a meno 26, la prima eliminazione a meno 25, si elimina un giro sì, un giro no, fino alla campana di meno 4. Sì, un po' di mezzo. Campana di meno 26, dal prossimo giro iniziano le eliminazioni. Si elimina nei giri dispari. 1, 0-2, 102. Va bene, così, calma, calma. 102, deve fermarsi. Campana di meno 24, intanto. Fai solo il lavoro in curva. 39,7. 29,7. 213. Meno 22. Vieni chiuso il buco, Camiano. Altissiamo il fondo. Meno 22. Curva. Numero 100. Numero 100. Campana di meno 20. Calma un attimo, un po' tanto. Dai su. Novanta quattro. Calma. Calma. Calma, che puoi farlo con calma. 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 Numero 5 16 è al passaggio 16 è al passaggio 17 è al passaggio 17 è al passaggio 17 è al passaggio 18 è al passaggio 17 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 è al passaggio Tutte le Juni ora la bella Atleti!